Ci sono, sono in un percorso di crescita, per cui non lo so, ogni giorno sono in fase di crescita. Cosa faccio? Oltre che lavorare su me stessa, lavoro in un showroom. Ho saputo di questo evento perché la nostra amica Pazzina, praticamente ci ha regalato questo evento, che è una cosa eccezionale, fantastica, meravigliosa, indescrivibile. L'abbiamo avuta in omaggio. Ho deciso di partecipare perché sapevo che con lei avremmo fatto tanto lavoro in maniera molto approfondita. E così è stato. E anche perché conoscendo Pazzina non si poteva non venire. Allora, di questo evento non c'è stata una cosa particolare che mi ha colpito. È tutto. Abbiamo fatto, oggi è il terzo giorno, sembra che siamo quasi qua da dieci giorni. Abbiamo fatto tantissime cose, una più bella dell'altra e diversa dall'altra. E in ogni situazione che facevamo, lavoravamo su me stessi. Per cui c'era il bello di vedere il posto, di godersi l'esperienza, ma nello stesso tempo lavoravamo su me stessi. È stata una cosa meravigliosa. Da questa esperienza mi porto a casa tanta gioia, tanta consapevolezza e il credere che nella vita puoi manifestare. Se vuoi qualcosa lo chiedi, questo. È un futuro migliore. Meravigliosa. È stata un'esperienza stupenda. Non so cosa ci sia di più bello di dire meraviglioso. E pattina è stupenda, meravigliosa e ci ha seguito in tutto per tutto come se fosse un chirurgo con un biscui. Per cui è riuscita a entrare dentro ognuna di noi e farci da fuori la nostra parte più bella. E soprattutto le nostre potenzialità, quelle che poi possiamo portare nella vita. Cercherò di mettere in pratica tutto quello che ho imparato, ma soprattutto già tante cose le ho riconosciuto. Cose che facevo, ma non le riconoscevo. Oggi le riconosco e vorrei portare a casa un aiuto per me, ma soprattutto per le persone che incontro, che conosco. Attina, grazie, grazie, grazie di cuore, ma veramente grazie. È stata un'esperienza bellissima, tre giorni meravigliosi. Più di così non potevi andare, anche se non stavi tanto bene. Per cui sei stata meravigliosamente meravigliosa.